ciao ragazzi bentornati dal vostro denar man oggi episodio extra andiamo a riprendere fall guys si è parlato tanto in questi giorni per i nuovi aggiornamenti e del fatto che sia diventato gratuito per tutti quanti allora riprendiamo e andiamo a farci un paio di partite così magari scopriamo anche quali sono le novità da quando lo abbiamo lasciato allora ragazzi innanzitutto iniziai subito con aggiornare il vestito del nostro pupazzo dato che abbiamo delle cose nuove noi eravamo così io metterei aspettate che avrei sbloccato in teoria eccolo qua il vestito alla ezio auditore del grande assassin's creed e dovrebbe pure la parte sotto se la trovo la mettiamo dovrei avere la troviamo eccola qua eccolo qui grandissimo ezio auditore dovremmo aver sbloccato forse qualche animazione so che ce ne frega la minchia perché tanto non va bene che se già vinto sempre questo interfaccia beh e ci frega poco ok va bene va bene questi sono i vari i vari premi da sbloccare anche questo al momento il tuo livello ancora da ricompensa sono state qui abbiamo aggiunto nuovi livelli tutte le ricompenze dovessi ricevuto sono già stata inviata detto ok va bene ho ricevuto un po di ricompense chiaramente per chi mi segue dall'inizio si ricorderà che questo è stato il primo gioco che abbiamo portato sul canale lo riprendiamo appunto andiamo a vedere le differenze per chi non avesse mai visto sul mio canale un episodio di fall guys vi consiglio andare a recuperare perché sono diversi e sono tutti molto divertenti allora andiamo a fare lo spettacolo in solitaria aspettando che arrivino i giocatori ricordiamoci che in attesa ci può volere qualche minuto prima che ci trova tutti gli avversari che vi voglio dire ragazzi come sempre intanto che aspettiamo ricordatevi di lasciare un bel like condividere e iscrivervi al canale per supportarmi siamo già 58 giocatori su 60 e ricordatevi in settimana ragazzi ci sarà la novità assoluta andatevi a recuperare the nard zone dove ho dato l'anteprima siamo pronti eccoci qua iniziamo muovete attraverso gli ostacoli ghiacciati e corri al traguardo medaglie fa un caldo della madonna ragazzi quindi se mi vedete grondare perché veramente fa un caldo e manco in sud africa però va bene siamo pronti ok quadro nuovo se non sbaglio non mi sembra questo quadro di averlo mai fatto parte che è natale vabbè non mi sembra natale comunque dai 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 siamo carichi siamo pronti vogliamo rimetterci in gioco e tanto che non ci giochiamo eccoci qui alzio auditore alzio auditore ricordiamoci che dobbiamo clarificarci dobbiamo arrivare tra i primi 40 io ragazzi devo riprendere un po' la mano perché sinceramente non mi ricordo una ceppa di minchia ma questo mi sembra che l'avevamo fatto questo quadro sì sì questo l'avevamo già fatto io lo ricordo veramente pochissimo adesso andiamo a riscoprire rialzati eccolo qui ci riportiamo ma sì 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 lo ricordiamo questo quadro se si tolgono dai coi omboli aia destrone destrombocca vai pronti via abbiamo sbloccato il checkpoint noi ce ne andiamo di qua perché ci piace fare le cose con più calma e sicuramente con più sicurezza qua partono le bestemmie tutti pronti a bestemmiare togliti dalle palle bravo togliti dalle palle dai che ci siamo dai che ci siamo mortacci tua no guarda come non ci qualifichiamo per i rompipalle eh è qualificata qualificazione raggiunta siamo arrivati trentadue trenta trentaduesimi buono abbiamo serato il primo quadro mi aspettavo subito un quadro con una cosa fresca invece niente va bene va bene meglio così perché comunque ci siamo classificati più facilmente ricordiamoci il nostro tabellone il tabellone dei qualificati 40 andiamo avanti ricordiamoci che avremmo vinto mezza colonna in 500 episodi che abbiamo portato ma noi abbiamo sempre giocato per partecipare non per vincere andiamo al prossimo livello vediamo che cosa ci esce e sto squagliando dai movi da scegli un quadro facciamo il nostro natale e ora inizia e ora inizia vedete stanno un botto dei quadri nuovi speriamo che ci dà un quadro non di quelli vecchi che odiamo ma un quadro nuovo magari pure figo sfondare porte corri la linea traguardo ma fa attenzione alcune sono vere altre sono finte perfetto questo l'abbiamo anche già giocato ripeto anche questo potrebbe essere un grande vantaggio per noi e se decide di partire questo dovrebbe essere un vantaggio ricordatevi dobbiamo bucare tutte le porte arrivare alla fine dove c'è il mega scivolone eccolo qua dai siamo pronti siamo pronti ogni volta c'è falta sta presentazione dai come vedete siamo rimasti in 40 e siamo cari stavolta diciamo che hanno 28 si dobbiamo qualificarci nei primi 28 vediamo un po buona buona prima porta abbiamo beccata poi ecco ti pareva che qua come brecchi una porta sbagliata subito dai e una sola aperta capito quali mortacci vostra ma tutte le qua ragazzi questo è stato un colpo bassissimo eh questo è stato un mega colpo basso perché siamo arrivati dietro e qua dai dai buttati in discesa buttati in discesa cerca di tagliare la concorrenza cerca di superare la concorrenza dai dai 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 e buttate 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 siamo qualificati 27 26 27esimi pressa poco andiamo sul prossimo quadro vediamo sempre il tabellone dei qualificati ragazzi mi sono lasciato giù a sinistra perché tanto su fall guys gioca a 360 gradi quindi qualsiasi posizione metto la camera potrebbe essere fastidiosa quindi la lascio là sotto eh spero che non abbiate niente in contrario fatemi sapere sempre nei commenti ragazzi se volete altri episodi fall guys io lo sto portando proprio per portarvi un po eh farvi vedere gli aggiornamenti del gioco ecco questo è un quadro nuovo per esempio questo è già un aggiornamento e quindi comunque se volete altri episodi volete qualcosa non specifico fatemelo sapere nei commenti e vi consiglio sempre di andarvi a recuperare c'è una playlist tutta una playlist di fall guys avevo giocato nel tempo quindi eh sono stato uno dei primi giochi che ho portato sul canale sicuramente vi consiglio di andarvelo a riprendere ok questo quadro chiaramente non l'abbiamo mai fatto e lo vedo bello uncasinato però partiamo prima fila pronti via ragazzi ahia vai via bustati buttati qua dobbiamo entrare nel 17 dai guardatevi che il tuffetto portacci tua è fondamentale per evitare cose particolari dai eh sta la vedo tosta eh chi sta la vedo tosta nasce palloncioni io non so gli altri dove stanno sicuramente stanno belli avanti vedo cacchio vai 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 tira su tira su tira su dai spini spini forte bravissimo bravissimo vai dai che abbiamo recuperato forse un pochino di strada abbiamo recuperato un pochino di strada ecco qua no ci attaccamo arca se se sbriga scende giù e va bene sta prende no vabbè ragazzi c'è da vabbè sì assurdo e vede lì e tirate qua questa sarà veramente una grande sfiga è un peccato perché ci siamo squalificati per poco nooo round finito eliminati sei fuori sei fuori va bene va bene andiamo a farcene un'altra adesso questa è stata un po' particolare diciamo ci abbiamo avuto sfiga su quella cazziglia attraforma che si muoveva su e giù un pochino mirosica damon semifinale ma va bene andiamoci a fare un'altra ne ero dimenticato quanto questo gioco fosse bizzarro e divertente allora riepilogo e ricompense ok abbiamo preso qualcosina ok vabbè round 3 non abbiamo fatto qui ci andiamo a sbloccare le maniglie le maniglie là le cose non ce ne prega una beata mazza allora abbiamo un bel po' di creditoni però io prima di attanto raccogli questo ok dicevi prima di fare questo di andare a fare qualsiasi cosa vorrei andare un attimo a vedere con i creditoni o no che cacchio ok sappiamo della roba da comprare abbiamo questi occhiali abbiamo questo mi interessa veramente poco no 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 vabbè questi sono cose basiche bla 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 niente diciamo momentaneamente non c'è niente di interessante da acquistare quindi ci teniamo le 32.495 monete allora ok partecipa queste sono tutte le missioni giornaliere settimanali e maratona praticamente hanno aggiornato un set di missioni settimanali giornaliere e vabbè queste penso siano sfide che rimangono sempre da superare in a 9 si aggiornano ogni 11 giorni senza sia mensile tipo una sorta di cosa mensile e la maratona questo non so perché in 61 giorni non so ogni quanto si aggiornano però comunque vabbè questo è tutto un set ragazzi di missioni da fare vedi partecipa a 100 round di qualsiasi spettacolo 70 round facendo queste tipo di missioni ci dà quei crediti viola vedete in alto a destra e ci dà la possibilità di comprare vestiti e tante altre cose allora direi di vediamo selezionare lo spettacolo in solitario spettacolo di squadra spettacolo a coppie spettacolo stelle da stadio ok e spettacolo a squadra x io direi di fare prima spettacolo da stadio a le possiamo pure selezionare tutte vedi perfetto mettiamole tutte mettiamole tutte seleziona spettacolo abbiamo messe tutte ok vai gioca spettacoli moltipli adesso vediamo non avevo selezionato prima le molteplici possibilità adesso andiamo a vedere che cosa ci propone perché effettivamente in tutto questo ci stanno quadri dove si gioca in coppie quadri dove si gioca in squadre e quindi quadri no quadri quadri in cui si gioca in coppie squadre e quindi sicuramente ci sono tantissime varietà di possibilità per vincere sicuramente quelli a squadre ci aiutano tantissimo perché comunque se giochi in una squadra di 10 giocatori contro altri 10 ti basta semplicemente che vinca la squadra e vince tu quindi comunque vai a eliminare un 50 per cento di competitor detto questo siamo a 58 giocatori su 60 siamo pronti e il quadro pure questo mi sembra che non l'abbiamo mai fatto e ribadisco che ci stiamo squaiando perché fanno veramente faranno 87 mila gradi ma non vi preoccupate resistiamo rotolo in pista se ci fai partire archiva gli ostacoli in questa periodistica vista raggiungi il traguardo la vedo facilissima tra l'altro ci stanno pure le medaglie che mi sembra che prima non ci fossero ma magari mi ricordo male dai dai pronti via pronti via eccoci qua vabbè si togli i nomi ok 2 1 ready go vai tuffati buttate qua buttate qua bravo preciso eh ma che cazzo ma sempre io mi devo castra qui ma te pare normale te e dai un po vai che non mi sembra tutta questa complicanza magari perché ci spaccano le palle capito ci stanno gli altri che te si mettono un mezzo e te creano un grosso problema perché te creano te rallentano ecco vai 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 bravo 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 andiamo 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 abbiamo preso il checkpoint siamo quasi in dirittura di arrivo ragazzi siamo in dirittura d'arrivo qualificati alla stragrande proprio in tutta tranquillità round finito primo quadro andato ritorniamo sul nostro tabellone gente che va peatamente a casa e cerchiamo di arrivare più lontano possibile questo quadro era nuovo divertente non era neanche troppo complicato come si poteva sembrare come poteva sembrare andiamo a vedere la prossima sfida che sarebbe divertente provare qualcosa di nuovo anche a squadre vediamo che cosa è capitato saltane buchi per segnare punti cazzo questo è tostissimo questo è un quadro che già c'era nel vecchio aggiornamento mai fatto perché questo per me è un quadro complicato cioè non c'ho difficoltà a fare sto quadro comunque adesso lo vediamo insieme per chi non l'avesse mai visto o comunque per chi non l'avesse mai visto con me vi farete sicuramente un paio di risate perché ci sarà da bestemmiare in giapposotto allora oppure in giapposaico questo è un mix tra giapponese e aramaico ma siamo pronti punti 0 di 15 i primi 25 si qualificano dobbiamo fare 15 punti vai siamo pronti siamo pronti via subito un punto togliete dalle palle vai 3 punti ammazza ragazzi ma è successa una cosa del genere questo è proprio perché questo è proprio perché ci abbiamo proprio c'era di voglia di rigiocarci perché non abbiamo mai fatta una cosa così è no non ci credo guarda se rosico guarda se non rosico è parte che lagga non capisco perché guarda se non rosico tre già tre già tre si sono qualificati ci mancano cinque nerchiosissimi punti niente gliela faremo che avevo detto è troppo complicato perché qua si buttano tutti insieme si buttano tutti insieme vai vai dai ragazzi che ci siamo e ce l'abbiamo fatta ragazzi questa è veramente record record ce l'abbiamo fatta mai riusciti buono andiamo avanti si qualificano solo in 25 ragazzi quindi il prossimo quadro sarà sicuramente complicato perché siamo molti di meno e sicuramente darà un'altra sfoltita prima della finale quindi vediamo ancora c'è stato ancora cinque che si devono qualificare se sbrigano abbiamo tra l'altro la possibilità di seguire i vari cazzilletti non capito perché mi sta allaggando un po' però vabbè amen mancano ancora cinque personaggi e dai e su che possiamo fare vi faccio vedere intanto un po di personaggi c'è questo c'è questo c'è il fiorellino così vi do il dra ok round finito buono buono vediamo adesso il prossimo quadro vediamo adesso poi soprattutto quanti si qualificheranno nel prossimo quadro se ne vanno a casa tanti rimaniamo in 25 pezzi auditore pare ci porti fortuna quindi andiamo a farci il terzo quadro che sicuramente sarà diciamo un sorta di pre semifinale speriamo di superarlo vediamo che ci capita speriamo non un quadro odioso mai fatto scala le montagne ghiacciata per raggiungere il traguardo in vetta questo non credo l'abbiamo mai fatto sto cercando di vedere dall'immagine quale può essere il senso del quadro eccolo qua ok non lo vedo bastano io semplicissimo è una volta cari villa magari più facile però non lo vedo proprio easy easy vabbè pronti via dai mai 15 se qualificano e quindi vuol dire 10 persone vanno beatamente a casa ok andiamo di qua no ma battano affan... bene e cristian vai vai e dai mamma mia muovite un po vai 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 guarda tu la sfiga guarda tu la sfiga guarda tu la sfiga niente cioè questa comunque veramente no no vabbè no no questa non è le bestemmie si tirano sempre a sto gioco cioè inutile ragazzi è inutile cioè figurate l'assurdità de sto gioco mannaggia oh la palla rompimento de palle se ci porti su vai 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 muoviti muoviti se pareva aia buono buono e 13 ce la facciamo raga eliminati purtroppo eliminati è stato un quadro fatto un po alla cast the can siamo fuori come al solito terzo quadro venendo avanti in 15 alla semifinale abbiamo perso amen ragazzi comunque abbiamo fatto un po un episodietto extra diciamo che probabilmente al 99,9 per cento ve ne porterò un altro comunque voi fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo e lasciate like per comunque darmi il vostro supporto e confermare che vi sia piaciuto questo grande ritorno di fall guys se ne ha parlato tantissimo in questi giorni quindi mi è sembrato doveroso riportarvelo abbiamo sbloccato questo abbiamo 200 monete questo è quanto ragazzi diciamo che nelle novità ci saranno ci hanno aggiunto gli spettacoli di squadra vabbè già c'erano a coppie che non c'erano se non ricordo male stelle da stadio lo scopriremo magari la prossima volta ci andiamo a togliere questo questo e questo e no ci lasciamo solo queste tre così almeno andiamo a vedere le altre tre le altre tre gli altri tre aggiornamenti detto questo ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto se così fosse come sempre lasciate un bel like commentate condividete iscrivetevi al canale e a tutti i miei canali social vi do appuntamento al prossimo episodio un saluto dal vostro tenerman ciao ciao